Bentornati su Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente insieme a Marco Leonbruni all'Istituto Italiano Design. Benvenuto Marco. Ciao a tutti. Design, l'avevo detto male. Allora, Marco è qui docente di illustrazione e allora volevo cominciare chiedendoti come ti sei formato, qual è stata la tua formazione? Allora, premesso che ho sempre disegnato fin da bambino, come tutti i disegnatori hanno questo problema, che non smettono di disegnare a una certa età e continuano. Vabbè, meno male. La prima scuola per essere un buon disegnatore è la sfiga, quindi se tu sei sfigato invece di andare a giocare a pallone, stai solo a disegnare, la gente dice bravo e tu dici ok, forse continuano, magari continuano a dirmi bravo. Questa prima indicazione per diventare un bravo illustratore. Siate dei bravi sfigati e poi potreste diventare anche illustratori. e poi niente, ho studiato, ho fatto l'OIED a Roma, illustrazione e animazione multimediale, interrompendo un percorso di studi da infermiere. Quindi ci hai creduto veramente. Sì, sì. Che coglione. E niente, questo è stato il percorso di studi. Poi da poco, cioè da poco, in realtà pochi anni fa, poi ho fatto un master breve di un anno in colorazione digitale alla Scuola Internazionale dei Comics. E quindi... Bello, bello. Ma è solo la mia domanda da curioso, visto che io qui insegno web marketing, quindi non so assolutamente niente di illustrazione grafica, ma come fai a formarti poi nel quotidiano? Cioè, tu sei uno che divora immagini? Come funziona? Sì, sì, funziona così. Tendenzialmente ogni volta che devo produrre una nuova illustrazione o approcciare a un progetto nuovo, c'è una fase di ricerca che sia... Ovviamente ogni progetto ha un mondo a sé, però è sia fotografia che una ricerca di stilistica. E quindi si va a cercare illustratori che hanno approcciato in una certa maniera a certe tematiche. Essendo io un illustratore abbastanza eclettico, nel senso che provo stili differenti, mi trovo a confrontarmi con meccaniche e stili sempre diversi. Questo è un po' un bene, perché significa che sei sempre a ricerca, quindi sempre in una continua autoformazione, ma sei anche condannato a non essere mai riconoscibile da nessuno, e neanche da te stesso, perché sei in una limbo in cui continui a cercare. Però fondamentalmente internet e la globalizzazione ci hanno permesso di arrivare a contatto con tutta la storia di qualsiasi cosa. Sì, qualsiasi cosa. Siamo immersi nell'immagine continuamente. Abbiamo parlato della tua formazione, adesso ti chiedo invece come hai iniziato a lavorare in questo mondo e di cosa ti occupi al momento. Allora, grossi problemi in memoria, però cerco di tirare un po' le fila così, dimostrerò probabilmente le cose più importanti. Finito di studiare allo IED, ho iniziato a collaborare con uno studio di animazione di Frascati, tale Tech Vision, e lì è stato molto interessante perché ho approcciato in parte a un po' tutte le fasi di realizzazione di un'animazione, quindi ho fatto storyboard, ho fatto i fondali, ho fatto i personaggi che poi venivano animati e ho imparato a utilizzare un software che era Toon Boom apposta per l'animazione e quindi poi ho fatto proprio anche l'animazione vera e propria. Da lì mi sono mosso nel mondo locale Umbro, aprendo partita IVA e poi lavorando con le agenzie pubblicitarie qua del luogo. Contestualmente ho sempre fatto attività laboratoriali, quindi laboratori nelle scuole, laboratori realizzati con altre illustratrici, quindi tutta una serie di situazioni di questo tipo. Fondamentalmente questo. Da quanti anni è che ti occupi di illustrare? Mi solazzo con l'illustrazione. Penso di essermi diplomato all'OIED nel 2009, ma non ne sono per niente certo. Quindi sono circa dieci anni. Sì, sì. Dieci anni di disegno. Cazzo. Il tempo vola. Il tempo vola. Anche io sono dodici anni ormai. No, ma sto cercando di smettere. Stai cercando di smettere. Però la passione ti uccide, quindi. È che non ho voglia di lavorare e quindi continuano a disegnare. Poi in realtà lavori più disegnando, perché chi fa un mestiere al genere si rende conto quanto... Quella famosa frase che dice fai per lavoro quello che ti piace e non lavorerai mai. Invece lavori il doppio. Lavorerai il doppio. E finché non raggiungerai dei risultati, anzi, non raggiungi mai dei risultati. Perché sei sempre a ricerca di un miglioramento continuo, perché quel lavoro diventa un po' a te stesso. E quindi non sei mai... Non arrivi mai a un punto. Bene, è interessante questo. Allora ti chiedo, per chiudere, qual è il tuo approccio poi didattico, visto che qui sei docente di illustrazione? Allora... Come imposti il lavoro? Visto che questa è una scuola di comunicazione e design, fondamentalmente, l'illustrazione è una parte, a mio avviso, molto importante, però non rappresenta lo sbocco. Può essere uno sbocco, quello dell'illustratore, ma non lo sbocco proprio di chi studia design. Quindi l'approccio è un po' difficile per me, perché cerco sia di non essere pesante, nel quadro generale dell'impostazione del programma, insieme agli altri ucenti, ma coniugare questo con la mia idea dell'illustrazione, che equivale a sofferenza, quindi cerco di farli sgobbare, farli soffrire il più possibile. Devo dire che mi dà molte soddisfazioni, perché molti ragazzi rispondono bene, hanno veramente dei buoni risultati, quindi è un lavoro un po' impegnativo, perché comunque dover lavorare con gli altri ha sempre una dose di ansia, perché devi comunque essere pronto e all'altezza anche delle situazioni, però ha anche una bella dose di soddisfazioni, perché vedi insomma gente che si impegna in quello che tu gli dici di fare e ci credono e quindi sono molto soddisfatto. Bene, beh a tu te, perché nel mio caso è sempre molto difficile, soprattutto perché io qui sono un po' l'outsider, visto che non è propriamente arte o design, quello che faccio io sono cose più tecniche, quindi che tutti odiano tendenzialmente. Ma non è vero, non è vero, sei molto amato. Io lo so. Benissimo, grazie, meno male. Ok, allora è stato veramente figo, io spero di reverti qui, magari parlare di illustrazione, visto che io personalmente non ci capisco una mazza. Molto bene. Potremmo raccontare, che ne so, i filoni dell'illustrazione, come funziona la storia dell'illustrazione, non ho idea. Lanciami tu un'idea, la lancio qui, l'appello. Non farmi fare cose complicate. Facciamo una cosa semplice. Una cosa interessante. Io al momento sto lavorando a un fumetto. Infatti, ecco, l'ultima domanda. Cosa stai lavorando? Ti ho anticipato. Grazie. È stato fantastico. Sto lavorando a questo fumetto, che mi ha impegnato molto in questo mese. Adesso mi impegnerà ancora di più, perché dovrei ricominciare a, non so se in part-time o full-time, su un'azienda, quindi sarà un delirio. Delirio, delirio. Sono in dirittura d'arrivo, quindi va bene, insomma. Mi mancano una decina di tavole. Potrei sicuramente, venerdì prossimo, non avrò ancora finito. Ovviamente. E quindi potrei portare la tavola che sto realizzando e magari fare un pezzo insieme, così può essere anche interessante per chi ci vede. Un po' di inchiostrazione in diretta. Ci piace. Mi hai avuto una grande idea. Allora, agli amici di Redesign, soprattutto chi ci guarda in video, al prossimo Verdi, ci incastriamo questa fantastica presentazione e spieghiamo un po' di cose. Io proverò a capirci qualcosa, tipo un minimo, su questo mondo che è immenso, immagino, è come tutte le cose, come tutti i lavori. Non è mai facile capirci veramente. Ok, grazie ancora Marco. A voi. Ti lascio la tua lezione, visto che fra poco c'è lezione. Grazie. È stato fantastico. Ciao a tutti. Alla prossima intervista.